Amici di contatto ci siamo, stiamo per partire, finalmente Stefano, Mr. White Travel, contatto, mamma mia Ibiza, non può mancare anche quest'anno Ibiza, la meta E' nel cuore della nostra isola, ovviamente ci torniamo anche quest'anno, Opening Summer 2013, ci siamo carichi, questo inverno ci ha stancato, siamo arrivati in anticipo, proprio perché l'inverno è stato rigido Vogliamo dare una sintonia, un piacere di allegria, vogliamo che tutti i nostri clienti di contatto television possano vivere in anteprima l'emozione di Ibiza Ed è per questo che abbiamo creato, visto i tempi, un long week di apertura, Opening Summer 2013 Ibiza, proprio al 30 maggio di Ibiza Perché devono prendere questo periodo? Devono prendere questo periodo perché quest'anno si cambia, abbiamo cambiato tutto, ovviamente tempi di crisi, abbiamo fatto un pacchetto ad hoc Proprio per chi non poteva più prendere una settimana di fere, per chi aveva tempi stretti, per chi ovviamente ha un budget limitato Abbiamo deciso di fare un long week giovedì-domenica dal 30 maggio al 2 giugno con un volo speciale, udite udite, all'Italia da Napoli All'Italia da Napoli Non ci credo Ce l'abbiamo fatta dopo diversi anni che andiamo sulla destinazione, ormai siamo leader, ci conoscono tutti, noi conosciamo tutti Finalmente siamo riusciti a fare un opening completamente diverso, abbiamo spiazzato la concorrenza e quest'anno partiremo dal 30 maggio al 2 giugno a Ibiza con questo volo speciale Siamo proprio contenti Mamma mia, amici di contatto e poi non solo questo, quando si parte con Mr. White Travel si parte con i big dell'agenzia di viaggi, si deve dire Troppo gentile No, non sono gentile, sono realista No, allora, proprio per essere chiaro, ormai eliminiamo il termine agenzia di viaggio e demodè e out Allora Partiamo con Mr. White Travel che è un mondo a parte Stefano, ma comunque lasciamo un infoline per tutte le persone interessate che vogliono partire con noi Redazione di contatto television, ufficio Mr. White Travel 0815512478 oppure sul sito www.misterviaggi.com oppure ancora www.misterwhitetravel.com Quindi, Mr. White Travel c'è, contatto anche, non ci resta che di stare in contatto